Tre continenti, 11 paesi presenti per un totale di 54 eventi, di cui 32 concerti e 22 incontri. Così Sudwave è pronto a fare il giro del mondo grazie ad un palco virtuale di dimensioni sterminate, ossia quello che ospiterà il festival che raccoglie l'eredità di Arezzo Wave. Abbiamo i più grandi organizzatori di festival e di concerti d'Italia, chi organizza Bruce Springsteen, ICDC, Sting, Elton John, eccetera. E abbiamo anche artisti famosi come Shade, per i nostri amici giovani, uno dei rapper più importanti in Italia, così come Petra Magoni. Questi saranno a parlare tutti su un tema, un tema ben preciso, la musica al tempo del Covid. In questo noi non ci siamo fermati all'Italia, c'è la prima parte che parlerà italiano e quindi questi interverranno in italiano. Ma poi ci saranno anche i soggetti, i più grandi operatori che arrivano da tutto il mondo e questa sarà tutta la seconda parte di Sudwave, sarà tutta in inglese per chi parla, poi la musica chiaramente è un'altra cosa, sarà tutta in inglese, ci saranno i più grandi organizzatori di eventi, di etichette discografiche, di festival, che arrivano da ogni parte del mondo. Quindi sarà una visione a 360 gradi, inframezzata da proposte artistiche, perché nel pomeriggio suoneranno gruppi cinesi, suoneranno gruppi russi, canadesi, italiani, pronti per l'export, dai picket jacks alla municipale, a Kioll, alla scapigliatura, tantissimi nomi che sono già conosciuti all'estero e lo saranno ancora di più. E per chiudere una festa con Electrowave Nights, non si può andare in discoteca, ma ci sarà Ralph DJ che ci porterà fino a tarda notte. Tutto questo per dire cosa? Per dire che c'è un movimento, c'è una realtà in Italia che è veramente messa malissimo, di cui si parla pochissimo, però sono centinaia di migliaia di persone che lavorano nel musica, nelle discoteche, che lavorano nei club, che lavorano nei festival, che lavorano a montare i palchi, che hanno disintegrato il proprio lavoro. Questo per noi è un momento di riflessione e anche una raccolta di atti. Noi pubblicheremo tutto quello che è stato detto e lo porteremo ai politici locali, ai politici, come dicevo prima, regionali e nazionali, per dire noi ci siamo, battiamo un colpo e battetelo anche voi. L'evento è in programma per domenica 13 dicembre. Chi vorrà seguire Sudwave 2020 potrà farlo sulla pagina Facebook Arezzo Wave Love Festival oppure sul canale YouTube Italia Wave. Grazie a tutti.